Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Nonostante l'uscita in early, il gioco ha già una carriera funzionante e una modalità multiplayer funzionante, perché di solito quando dicono arriverà anche il multi, chissà quando arriva, non sapranno ancora gestirlo bene, quindi avrà dei bug, no, è già funzionante, quindi lo potete già cliccare e giocare con i vostri amici. Ma al momento noi proviamo la modalità carriera, ok, andiamo a provare non saltando il tutorial ma con la nuova carriera, quindi vediamo un attimino come funziona il gioco. Partiamo con, sì, va bene, va bene così, vediamo, andiamo all'ufficio, all'ufficio ci dice subito cosa fare, la prima cosa che noto è che non si può correre ma non si può saltare, quindi si va all'ufficio, c'è lì una barchetta, prima l'ho provata, si può usare. Ma noi dobbiamo andare qui. Entriamo nell'ufficio e abbiamo una prima missione Deliver Food, da Rosta a Kvelbeida, va bene, pagamento 20.000, più esperienza, perfetto. Vi faccio vedere anche la mappa, che la mappa è abbastanza grossa direi, abbiamo anche i punti dove si può fare carburante. Per questa missione bisogna di raccogliere il cargo dal porto e inviarlo alla tua barca. Dopo che, ok, press tab, you can check current mission. Ok, abbiamo il nostro certificato, la nostra esperienza, le missioni che abbiamo attualmente, abbiamo anche un tot di giorni, lo skill tree che andremo poi a potenziare facendo esperienza, le nostre navi che abbiamo alla barchetta e help. Ok, allora, dobbiamo prendere il cargo. Il cargo è questo, quindi lo prendiamo, abbiamo questo carico di pesce e andiamo a portarlo sulla nostra barchetta. Tra l'altro, andando avanti, poi guideremo le navi, insomma, le gestiremo, sarà da vedere. Undock col tasto T, andiamo indietro, dobbiamo portare il carico, non so dove, follow the marker to reach the cargo destination, ok, abbiamo il punto lì, e dobbiamo portarlo là. Quindi potrebbe essere abbastanza lunga la cosa, però abbiamo ben due giorni per farlo. Vedete che qua intanto ci sono fish habitat, qua ci sono altri elementi, ma noi dobbiamo andare da questa parte. Quindi sarà un viaggio assolutamente lungo che vedrò di evitarvi, più che altro perché quando noi andiamo dai T non possiamo curvare giustamente, quindi bisogna mettersi in una direzione che è più o meno giusta, più o meno stabile, anche rispetto alle onde che sono ricreate veramente molto bene, e dobbiamo portare tutto, ok, intanto si può fare una sorta di corsa anche sulla barca, quindi la delizia, il delivery area la vediamo là, io adesso vi lascerei un attimino in attesa, saltiamo tutto quello che è il viaggio e vi porto direttamente a destinazione. Ok, ci stiamo approcciando al piccolo molo, quindi adesso parcheggeremo la barchetta qua. Il viaggio non è stato lunghissimo, dico la verità, però è tosto. Reduce speed dock, riduco la velocità, parallelo, exit boat, f, prendo il mio carico e lo porto a destinazione, che dovrebbe essere, la destinazione dovrebbe essere di là, di là ma come ci fa, ah qui, delivery area, ok, place x, completato. Perfetto, vai all'ufficio per prendere la tua prossima missione. Quindi devo tornare là con la barca, molto male, spero, spero mi diano una barca un po' più veloce, comunque teleporta, ok, puoi teleporta, teleporta. Ha completato la prima missione, torno all'ufficio, ok, posso fare il teleport. Ah, mi ha già teletrasportato, ok, perfetto, exit boat, ok, ok, mi ha già teletrasportato, perfetto. Quindi andiamo all'ufficio e prendiamo la seconda missione. Ripairsi, marker, dobbiamo riparare una boa, 20.000. No mission available, ok, ok, dobbiamo andare a riparare, buy power screwdriver, un trapano, comprare una lampadina e un fusibile, quindi andiamo allo shop e compriamo quello che ci serve. Un power screwdriver, che compriamo. Un fusibile e un light bulb, ok. Ok, comprato tutto, andiamo sulla barca e mettiamoci all'opera e andiamo a riparare la nostra, oh, non voglio finire in acqua, andiamo a riparare la boa. Se riesco a salire sulla barca, qua si muove, quindi bisogna puntare, ok, undock e andiamo. Vediamo dov'è la boa, dove dobbiamo andare, qua davanti, ok. E quindi, vedete che qua per curvare non devo remare, ok, andiamo avanti. Ovviamente vi salterò il viaggio e andiamo. Ok, premi V. Premi V, ma poi? Ah, per cambiare la visuale, ok, si può rimanere in prima persona o in terza, ok. Allora, ci avviciniamo. Allora, dobbiamo andare in prima persona e puntare la scala. Quindi, ci spostiamo di là. Ci mettiamo dritti, remiamo avanti. Ok, bellino, siamo già in cima. Dobbiamo premere I, prendere l'inventario, usare, e togliamo le viti. Unscrew. Open. Poi, dobbiamo... Allora, spegnere Circuit Breaker. Ok, cambiato il fusibile. Qua possiamo andare a cambiare... Ah, vedete che c'è tutta la spiegazione di quello che dobbiamo fare. Lightbulb. Cambiamo la lampadina. Aggiungiamo la cover. E abbiamo fatto tutto. Change Color to White. Quindi, White. Perfetto. Chiudi. E riavvita. Una, due, e tre viti. Completato. Guadagnato un nuovo Skill Point. Disembark. Teleport. E torniamo nuovamente qui, al nostro Exit Boat. E andiamo nuovamente al... Ovviamente qua non abbiamo visto niente. Facciamo un po' di mal di mare qua, con questo traballio. Andremo a guidare delle navi dopo. Barche, perlomeno. Devo fare che cosa? Congratulation. Buyer Jigger. Questo. Della lenza, non so. Vai, lo Skill Tree e acquire Jigger Skill. Ok. Ci sono varie skill, dall'ingegnere, il pescatore, deckhander. Quindi potremmo fare varie cose, dal medico, l'ingegnere, in generale, insomma. Quindi ripareremo anche navi. Prendiamo Jigger, puoi pescare. Ok. Quindi praticamente... Perfetto. E il gioco ora ci fa pescare con questa modalità qui. Quindi praticamente ora andiamo alla barca e peschiamo. Guardate che devo riuscire a prendere la barca, capire come salirci. Comparo ogni tanto. Ok. Undock. E quindi varia la barca e trova un posto dove pescare. Ok. Quindi voglio cambiare a visuale questa. Anche se la prima persona non è malissimo. Andiamo al fishing fish habitat. Praticamente la possibilità di pescare là in mezzo. Quindi là c'è il posto dove si possono pescare alcune tipologie di pesci. E andiamo a pescare con la lenza. Adesso non so che tipo di pesca sia ma... Ovviamente andando avanti nel gioco avremo missioni dove dovremo andare su delle barche e ripararle. Come abbiamo fatto adesso con... Molto bella tra l'altro il cambio della lampadina e del fusibile sulla boa di segnalazione. E ripareremo motori, ripareremo cose, cureremo gente. Una sorta di stormworks senza la costruzione di navi. È un simulatore proprio di attività. E andremo anche a pescare ottenendo dei soldi. Infatti se andate su Steam e vedete gli screen si vede proprio rulli in cui passano i pesci pescati. Che poi vanno puliti e venduti poi al porto. Dobbiamo raccogliere tre pesci e venderli. Il gioco poi col tutorial ci ammazza molto i tempi perché ci permette di teletrasportarci. La mappa poi è enorme. Noto comunque dato che non c'è alcun tipo di fame, sete, insomma riposo. Punta ad essere molto molto rilassante. E ora vi faccio vedere anche la pesca. Arriviamo sul punto di pesca. Ok. Premire per Castline. Devo andare a equipaggiare questo. Use. Ok. E... Ah è un patinetto mulinello. Praticamente abbiamo buttato sto coso in acqua e aspettiamo che il pesce abbocchi. Quando la linea è rossa, adesso io sto raccogliendo pian piano. Ma non ha bocca a nessuno. Non ha bocca a nessuno. Aspettiamo ma... Tiriamo su e vediamo se si abbocca qualcuno. Ok. Bisogna tirare su quando è rosso e verde. Non so perché mi è andato di là il coso qua. Ok. Adesso è giusto. No, la linea è rossa. Ok. No. Quando è rossa non possiamo tirare su. Ok. È verde. Dai. No. Si è rotto. Ok. Riproviamo a pescare. Non è proprio bellissimo questo tipo di pesca. Però va bene. Quando fa resistenza dobbiamo evitare di tirare su. Vediamo se riusciamo a pescare nel meno uno. Doviamo pescare nel meno tre. In questa quest. Ok. Preso. Questo io onestamente non ho capito perché mi va di là così. Ok. Quando diventa rossa non lo facciamo. Quando è rossa non lo facciamo. No. No. Ok. Vedete che fa resistenza. Quando fa resistenza io non tirare rosso. Quando è bianca vado tranquillo. Adesso vado liscio. Diventa un po' rossa. Piano. Adesso è bianca. No. Piano. Piano. Ok. Mamma mia è lunghissima sta pesca qui fatta in questo modo. Pesce non sappiamo neanche quanto lontano sia. Stiamo raccogliendo pian piano. Si inizia a vederlo. Eccolo lì sotto. Sta arrivando. Dai. Piano. Con pazienza. No. Dai che arriva. Eccolo lì. Aspettiamo. Lo facciamo un po' stancare. Ok. Basta. Eccolo lì. Ormai ci siamo. Dai. Ci siamo. Piano. Piano. Dai. Ok. Ultimo. Ultimo pezzo. No 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 no. Piano. È enorme. No. Piano. L'abbiamo preso. Uno su tre. Vediamo un po'. Nell'inventario abbiamo un pesce. Ok. Niente. Adesso dovrò andare avanti a pescare. Comunque queste sono le basi. Probabilmente calcolate che nel gioco poi si andranno in varie... Potremmo acquistare delle fish farm. Potremmo acquistare un sacco di cose. Comprese anche le navi. Quindi si potranno andare a fare anche dei rifornimenti di carburante. Potremmo vagare con la nostra nave e fare le missioni che vogliamo fare. Gioco un po' particolare devo ammettere. Questo ships at sea. Non so il prezzo. Comunque uno o due anni in early access. Fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo. Vediamo il prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.